Dopo di ciò Paolo partì da Atene e venne a Corinto dove trovò un giudeo di nome Aquila nativo del Ponto appena giunto dall'Italia con sua moglie Priscilla perché Claudio aveva ordinato che tutti i giudei se ne andassero da Roma Paolo si recò da essi e poiché era dello stesso mestiere rimase ad alloggiare presso di loro e lavorava infatti erano fabbricanti di tende ogni sabato poi parlava nella sinagoga e cercava di persuadere i giudei e i greci quando poi Sila e Timoteo giunsero dalla Macedonia Paolo si diede tutto alla predicazione attestando ai giudei che Gesù era il Cristo ma resistendo essi e lanciando bestemmie egli scosse la polvere dalle vesti dicendo loro il vostro sangue cadrà sul vostro capo io non ne ho colpa da questo momento andrò dai pagani e di là si trasferì presso un certo tizio giusto che onorava Dio la cui casa era contigua alla sinagoga Crispo capo della sinagoga credette al Signore con tutta la sua casa e molti dei corinzi che avevano ascoltato Paolo credevano e si facevano battezzare il Signore una notte disse in visione a Paolo non temere ma continua a parlare e non tacere perché io sono con te e nessuno metterà le mani su di te per farti del male poiché c'è per me un popolo numeroso in questa città così Paolo rimase per un anno e sei mesi insegnando in mezzo ad essi la parola di Dio mentre Gallione era proconsole della Caia i giudei si mossero unanimi contro Paolo e lo condussero davanti al tribunale dicendo costui induce la gente a onorare Dio in modo contrario alla legge Paolo stava per aprire la bocca ma Gallione disse ai giudei se si trattasse di un delitto o di un'azione malvagia o giudei vi ascolterei pazientemente come è giusto ma se si tratta di questioni di dottrina e di nomi e della vostra legge vedetevela voi io non voglio essere giudice di queste cose e li mandò via dal tribunale allora tutti afferrarono Sostene capo della sinagoga e lo percossero davanti al tribunale ma Gallione non se ne preoccupava affatto Paolo dopo essersi fermato ancora molti giorni prese congedo dai fratelli e salpò per la Siria avendo con sé Priscilla e Aquila a Cencre si era fatto tagliare i capelli poiché aveva fatto un voto giunsero ad Efeso e Quivi li lasciò Paolo entrato nella sinagoga incominciò a discutere con i giudei essi gli chiesero di prolungare il suo soggiorno ma egli non acconsentì tuttavia prendendo congedo disse ritornerò di nuovo tra voi se Dio lo vorrà e partì da Efeso sbarcato a Cesarea salì a salutare la chiesa quindi discese ad Antiochia vi rimase un certo tempo poi partì percorrendo successivamente le regioni della Galazia e della Frigia e confermandone la fede tutti i discepoli frattanto capitò ad Efeso un giudeo di nome Apollo nativo di Alessandria che era un uomo eloquente e ben ferrato nelle scritture egli era stato istruito nella via del Signore e pieno di fervore predicava e insegnava con esattezza le cose riguardanti Gesù ma conosceva soltanto il battesimo di Giovanni egli cominciò a predicare con franchezza nella sinagoga Priscilla e Aquila dopo averlo ascoltato lo presero con loro e gli esposero con maggiore esattezza la via di Dio e poiché egli desiderava passare in Acaia i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di fargli buona accoglienza il suo arrivo e la sua presenza furono di grande giovamento a coloro che avevano creduto per opera della grazia infatti egli confutava vigorosamente i giudei in pubblico dimostrando attraverso le scritture che Gesù era il Cristo Mentre Apollo si trovava a Corinto Paolo dopo aver attraversato le regioni dell'altipiano arrivò ad Epeso dove trovò alcuni discepoli ai quali domandò avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete abbracciato la fede essi gli risposero non abbiamo neppure sentito dire che vi sia uno Spirito Santo egli allora domandò con che battesimo dunque siete stati battezzati quelli risposero col battesimo di Giovanni Paolo disse allora Giovanni battezzò con un battesimo di penitenza dicendo al popolo che occorreva credere a colui che sarebbe venuto dopo di lui cioè in Gesù udite queste parole furono battezzati nel nome del Signore Gesù poi Paolo impose loro le mani lo Spirito Santo venne su di essi e cominciarono a parlare le lingue e a profetare erano in tutto circa dodici persone Paolo entrò nella sinagoga e vi parlava con franchezza per tre mesi tenendovi discussioni e cercando di persuadere su quello che riguarda il regno di Dio ma poiché alcuni si indurivano nell'incredulità e sparlavano contro la via di fronte all'assemblea si staccò da loro separò i discepoli e continuò a tenere le sue discussioni ogni giorno nella scuola di Tiranno così durarono le cose per due anni di modo che tutti gli abitanti dell'Asia sia giudei che greci ascoltarono la parola del Signore e Dio operava prodigi davvero straordinari per le mani di Paolo fino al punto che si applicavano su malati fazzoletti o grembiuli che erano stati a contatto con lui e le malattie si allontanavano da loro e gli spiriti maligni fuggivano anche alcuni esorcisti ambulanti giudei si provarono a invocare su coloro che avevano spiriti maligni il nome del Signore Gesù dicendo vi scongiuro per quel Gesù che Paolo va predicando tra quelli che facevano così vi erano i sette figli di un certo sceva sommo sacerdote giudeo ma in risposta lo spirito malvagio disse loro Gesù lo conosco e Paolo so bene chi è ma voi chi siete e scagliatosi contro di essi quell'uomo in cui vi era lo spirito malvagio li sopraffece e li malmenò talmente che nudi e feriti se ne dovetero fuggire da quella casa ciò fu risaputo da tutti i giudei e i greci che abitavano Efeso essi furono presi da timore e il nome del Signore Gesù veniva magnificato molti di quelli che avevano abbracciato la fede venivano riconoscendo e manifestando pubblicamente le loro pratiche malvage non pochi di coloro che avevano esercitato le arti magiche ammucchiavano i loro libri e li bruciavano in presenza di tutti l'ammontare del loro prezzo fu calcolato 50.000 pezzi d'argento così la parola del Signore cresceva e si affermava potentemente dopo questi fatti Paolo si pose in animo di andare a Gerusalemme passando per la Macedonia e per la Caia e diceva dopo essere stato là devo vedere anche Roma così inviò in Macedonia due dei suoi collaboratori Timoteo ed Erasto e gli rimase ancora un po' di tempo in Asia fu verso quel tempo che successe un tumulto assai grave a proposito della via c'era infatti un argentiere di nome Demetrio che faceva dei tempietti di Diana in Argento e procurava gli artigiani non piccoli guadagni egli radunò costoro insieme con quanti lavoravano intorno a oggetti del genere e disse amici voi sapete che il nostro benessere dipende da questa industria ora voi vedete e sentite che non soltanto in Efeso ma in quasi tutta l'Asia questo Paolo con i suoi ragionamenti ha traviato moltissima gente dicendo che non sono dei quelli che escono dalla mano dell'uomo e non soltanto la nostra attività minaccia di cadere in discredito ma anche il tempio della grande dea Artemide rischia di perdere ogni prestigio e colei che è onorata da tutta l'Asia e il mondo intero finirà per essere spogliata di tutta la sua grandezza udite queste parole si riempirono di sdegno e gridavano grande è l'Artemide degli Efesini la città fu tutta in subbuglio si precipitarono in massa verso il teatro trascinando con sé Gaio e Aristarco Macedoni compagni di viaggio di Paolo Paolo voleva introdursi anche egli in mezzo all'assemblea popolare ma i discepoli non glielo permisero anche alcuni degli asiarchi che erano suoi amici mandarono a pregarlo di non esporsi nel teatro intanto chi gridava una cosa chi un'altra e l'assemblea era tanto confusa che i più non sapevano per che cosa si erano radunati alcuni della folla indussero a intervenire Alessandro che i giudei avevano spinto avanti egli fatto cenno con la mano voleva pronunciare una difesa davanti al popolo ma avendo riconosciuto che era un giudeo tutti si misero a gridare a una sola voce per quasi due ore grande è l'artemide degli Efesini riuscito a calmare la folla il cancelliere disse cittadini di Efeso chi è mai quell'uomo che non sappia che la città degli Efesini è la custode della grande artemide e del suo simulacro caduto dal cielo poiché dunque queste cose sono inconfutabili bisogna che voi stiate calmi e non facciate nulla di sconsiderato ora voi avete condotto qui questi uomini che non sono né sacrileghi né bestemmiatori della nostra dea se dunque Demetrio e gli artigiani che sono con lui hanno accuse a carico di qualcuno per questo si fanno le udienze nel foro e ci stanno i proconsoli presenti dunque ciascuno le sue accuse se poi avete qualche altra richiesta vi si darà soddisfazione in un'assemblea regolare infatti noi corriamo il rischio di essere accusati di sedizione per ciò che oggi è avvenuto non essendovi alcun motivo con cui possiamo dar ragione di questo comizio e con queste parole sciolse l'assemblea io che non credevo nel mio domani io che non speravo in niente io come una bacca perduta nel mare mi perdevo tra la gente e tu ci sei è tua la forza che mi dai che mi dai è tua la forza che mi dai Grazie a tutti